Rete Ferroviaria Italia approva il progetto per 1,8 miliardi di euro inerente l'alta velocità anche con il tratto Battipaglia-Romagnano. Sono opere che rientrano nell'ambito dei lavori alla realizzazione della linea alta velocità Salerno-Reggio-Calabria. Opera da 22,8 miliardi suddivise in 7 lotti è stato completato nell'otto 1A la PFTE, progetto di fattibilità tecnica ed economica, che si sta analizzando e con la presentazione prevista per il 30 dicembre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per avviare l'iter del grande progetto. Questo quando spiegato con una dichiarazione della DDRFI Vera Fiorani in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. Il lotto 1A da 1,8 miliardi per la Battipaglia-Romagnano inserito nel PNRR ha fatto presente la DDRFI spiegando che il lotto 1A è parte del lotto 1 diviso anche in 1B e 1C. I lotti prioritari rappresentano un valore pari alla metà dell'opera e sono anche quelli oggi finanziati che oltre all'otto 1 e alle sue tre componenti ha anche il lotto 2 finanziato. Una buona notizia insomma per migliorare la viabilità su ferro ed arrivare grazie all'impegno dell'alta velocità sempre con maggiore facilità nella città di Battipaglia che quindi con questo nuovo progetto si candida a diventare davvero snodo centrale per il transito dei treni su tutto il territorio nazionale. Questo tratto, Battipaglia-Romagnano inserito nei fondi del PNRR renderà ancora più facile collegarsi con le grandi città ed in tempi rapidi anche per i tanti pendolari cittadini residenti nelle aree periferiche. Battipaglia-Romagnano